Grazie a Matteo Marzotto, a Romana Liuzzo, a tutti i promotori di questo prestigioso premio, alla giuria, un ringraziamento particolare a Gianni Letta che per me è un maestro da sempre, che come ha ricordato quando mi sono trovata in giovane età a svolgere un ruolo difficile e importante come quello del Ministro mi ha molto aiutato, qualche volta mi ha tolto dalle grinfie del Ministro Tremonti e quindi si è schierato con me in maniera molto coraggiosa.